Amara scoperta ieri mattina per i custodi del cimitero di Agropoli e per quanti cittadini hanno fatto visita ai loro cari al Camposanto. Un cumulo di pietre, quello che resta della lapide di Pasquale Piccariello, giovane agropolise, morto in un incidente stradale nel lontano 2006. Nella notte fra sabato e domenica la tomba di Pasquale Piccariello è stata trafogata. I gnoti si sarebbero introduti all'interno del cimitero dalla parte alta, rompendo il lucchetto del cancello e con una infalcatura, hanno portato via l'intera lapide con all'interno i resti del giovane ragazzo e caricata molto probabilmente a bordo di un'auto. La lapide era situata al terzo livello, quindi non è stato semplice tirarla giù. Non si capisce ancora il motivo del gesto, ma pare che la vicenda sia legata ad una vendetta personale verso uno dei familiari del giovane ragazzo che morì 13 anni fa. Non si esclude neanche che il gesto possa essere collegato alla morte del cagnolino gettato la scorsa settimana dal terzo piano di un palazzo in località Moio, dopo una lite avvenuta tra due donne. Altra vicenda questa che ha fatto scatenare l'ira di tanti animalisti, tanto da far arrivare in città striscia la notizia. Il cagnolino apparteneva alla sorella di Pasquale Piccariello. Sul posto, per i rilievi del caso, sono giunti i carabinieri della locale compagnia agropolese che hanno setacciato a lungo l'intero camposanto in cerca di indizi. Il cimitero agropolese non è dotato di un sistema di videosorveglianza né all'interno né all'esterno, quindi non è stato possibile risalire ai responsabili dell'orribile gesto. Pasquale Piccariello morì presso l'ospedale civile di Agropoli in seguito ad un incidente stradale. Il 6 maggio del 2006 fu trasportato al pronto soccorso, ma le sue condizioni di salute non furono giudicate gravi. Dopo quattro ore Pasquale morì. Dall'esame autoptico emerse che il giovane era deceduto in seguito alla frattura di alcune costole del lato sinistro, lacerazione del polmone, rottura del rene e della milza. In seguito i familiari di Pasquale denunciarono l'accaduto e la procura di Vallo della Lucania avviò un'inchiesta disponendo il sequestro della cartella clinica. La dottoressa che quella notte era di turno fu processata e condannata per omicidio colposo, un gesto che lascia la città di Agropoli ancora una volta sgomenta e incredula. Questo ci deve far riflettere e pensare quanta cattiveria e malvagità incontrollata ci sia in giro tra di noi in tutti gli angoli della nostra vita quotidiana, scrive un cittadino su Facebook apprendendo la notizia.